Il microebook che Paolo Chirco ci propone è una sorta di florileggio di aforismi visivi, ovvero un modo per condensare, in pochi elementi materici, un messaggio, una definizione, una verità. Non a caso Giovanni Papini sosteneva che un aforisma sia una verità detta in poche parole e però detta in modo da stupire più di una menzogna. Proprio nel rimandare ad altro, nel suo modo di dire la verità attraverso sineddoche visuale, Il microebook di Chirco appare estremamente interessante, grazie anche alla ripetizione di elementi semplici, i chiodi, il colore rosso, le corde, che rappresentano il linguaggio che viene piegato dall'artista al proprio scopo semantico. Il medesimo segno assume infatti nelle diverse pagine significati differenti. E come spesso accade per alcuni grandi della letteratura e del pensiero, autori di famosi aforismi, pensiamo a Oscar Wilde o a Friedrich Nietzsche, un aforisma riesce a dire in pochi segni ciò che altri non sanno dire in libri interi. Grazie per la visione!